Ci sono diversi aspetti che rendono un processo deliberativo diverso da un semplice dibattito, per così dire. Uno di questi è il fatto che i cittadini che partecipano a questo processo sono cittadini informati, quindi ci sono un insieme di esperti che si occupano di dare informazioni riguardo alla questione climatica. Da questo punto di vista a Bologna ci sono state una serie di portatori di interessi di diverse realtà che hanno partecipato a un bando e si sono candidati per poter essere ascoltati dai cittadini all'Assemblea e poi sono stati però i cittadini stessi a decidere chi volevano ascoltare, quindi anche questa decisione è stata presa dai cittadini.